Via di comunicazione strategica per il collegamento tra Nord e Sud Europa, il tunnel del Gran San Bernardo, inaugurato nel 1964, fu il primo traforo stradale aperto al traffico attraverso la barriera delle Alpi. Il traforo, lungo quasi 6 chilometri, situato a circa 1900 metri di quota, è dotato di tecnologie e impianti d'avanguardia a garanzia della sicurezza e del comfort degli utenti. Il monitoraggio e la gestione degli impianti e del traffico sono effettuati da due moderne sale di controllo, situate ai rispettivi imbocchi, dove sono costantemente operative le squadre di pronto intervento. Con l'obiettivo di elevare gli standard di sicurezza, il traforo del Gran San Bernardo sarà dotato di una galleria di servizio e soccorso parallela. Nella primavera 2010 sono stati avviati i lavori di approntamento del cantiere sul versante svizzero per la realizzazione della nuova galleria di servizio e sicurezza. I lavori di scavo saranno realizzati da una moderna TBM, Tunnel Boring Machine, appositamente adattata alle condizioni geologiche e geometriche dell'opera da realizzare. La TBM, contemporaneamente alle operazioni di scavo, provvederà al posizionamento dei conci in calcestruzzo prefabbricato, lasciandosi alle spalle la galleria rivestita. Il materiale di scavo evacuato da un nastro trasportatore sarà depositato provvisoriamente in un'area predisposta. Ai rispettivi imbocchi saranno realizzati due fabbricati adibiti a locali tecnici e di pronto intervento per l'accoglienza e il primo soccorso delle persone evacuate. Tutto il materiale di scavo sarà riutilizzato, secondo un razionale progetto di smaltimento, per la costruzione di rilevati paravalanghe a protezione della stazione situata sul lato svizzero. Il tunnel sarà collegato alla galleria di servizio e sicurezza da 23 uscite, situate ogni 240 metri circa. L'eventuale situazione di emergenza sarà prontamente rilevata dalle sale di controllo che allerteranno le squadre di pronto intervento. L'utente, costantemente monitorato attraverso un sistema di videosorveglianza, dovrà accedere alla galleria di sicurezza e avviarsi verso l'imbocco più vicino seguendo la segnaletica. Con la realizzazione di questa importante infrastruttura, il traforo del Gran San Bernardo sarà in grado di assicurare in futuro condizioni di elevata sicurezza ai numerosi utenti che usufruiscono di questo importante collegamento transalpino.